Per avviare la connessione Bluetooth, dovete per prima cosa attivare il Bluetooth dalle impostazioni del vostro cellulare in modo da renderlo rilevabile. Ora cliccate qui sul telefono e poi su connetti dispositivo. La ricerca del telefono è in corso. Una volta rilevato il telefono, qui apparirà il telefono Mercedes-Benz. Cliccatelo e inserite le password. E sul vostro telefono, cliccate Associa. Effettuata la connessione, potete importare la vostra rubrica e i vostri contatti e da adesso in poi il telefono può essere controllato tramite lo sterzo o anche attivato mediante la voce. Vediamo altre due funzioni che possono essere interessanti per il cellulare. Prima di tutto, con il Multimedia Cockpit interattivo, sono disponibili connessioni Bluetooth doppie. Di conseguenza potete usare sia il telefono del lavoro, sia il telefono personale ed essere connessi simultaneamente. Infine, come opzione, potete ricaricare il telefono per induzione posizionandolo su questo ripiano. Mercedes-Benz. Trax, you can trust.